Amici sportivi, appassionati del mondo dello sport a 360 gradi, ben trovati nel nostro consueto spazio di approfondimento. Questa sera ci tuffiamo nel vero senso della parola in un mondo, quello del nuoto, che vede il Veneto protagonista e che vede protagonista nel Veneto il team Veneto del presidente Davide Pontarini. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. Allora Presidente, il team Veneto nasce nel 1993, dal 1993 è ai vertici del nuoto italiano, nasce da un'idea di Gianni Grosso, lo ricorderete l'Olimpionico di Tokyo 1964, con l'obiettivo di unire sotto un'unica gestione tecnica diversi impianti natatori. Allora ci racconti un attimo intanto che cos'è il team Veneto. Il team Veneto è proprio quello che lei ha appena descritto, quindi l'idea di Gianni Grosso è stata quella di riunire sotto un'unica bandiera gli atleti più forti dei piccoli impianti che ci sono disseminati nel territorio, perché le realtà piccole poi a livello nazionale contro le grandi società di Roma, di Milano, di Torino avevano poca possibilità di competere. Mettendo insieme gli atleti più forti e i tecnici degli impianti che fanno parte del progetto del team Veneto si è riusciti a raggiungere i risultati che ci hanno contraddistinto in questi ormai quasi 30 anni. Numeri importanti, li vedremo dopo perché ci sono dei record davvero significativi. Presidente, ma è difficile coordinare e far coesistere così tanti poli natatori insieme, l'attività, insomma si riesce a gestirla bene? Sì, si riesce a gestirla bene, da un primo momento può sembrare difficile, poi però la passione che ci anima e che ci guida in questo sport è il fatto che il buon Gianni Grosso ci abbia cresciuto sotto la sua ala protettiva, ha fatto sì che il team Veneto diventi più una sorta di famiglia, non di una semplice squadra di nuoto e questo sentimento rende tutto molto più facile perché fra tecnici e fra atleti c'è un sentimento di reciproca stima, di reciproca fiducia e di reciproco impegno nel voler raggiungere determinati risultati. Parleremo fra poco delle difficoltà che chiaramente il mondo del nuoto e delle piscine hanno affrontato e stanno ancora affrontando, insomma sono usciti ma i segni, le cicatrici un pochino rimangono, parliamo però prima di attualità perché si sono da poco conclusi i campionati europei di nuoto a Budapest, team Veneto era presente, come è andato il bilancio di questa esperienza? Il bilancio è più che positivo, il team Veneto era presente con tre atleti, Matteo Furlan ha gareggiato nella prima settimana di gare in acque libere, quindi in lago e ha portato a casa una medaglia d'argento nella 25 km, la gara più lunga in assoluto del nuoto in acqua e libere e del nuoto in generale, poi avevamo Manuel Frigo che ha gareggiato nei 100 stili libero e nelle staffette e ha portato a casa tre medaglie e Ilaria Cusinato che è stata protagonista di una notevole rinascita, è ritornata a gareggiare quasi ai suoi livelli di tre anni fa dopo un periodo di crisi, è ritornata a casa dalle nasse, adesso si allena a Padova, con un quarto posto nei 400 misti e un quinto posto nei 200 delfini e nei 200 misti, è stata una delle atlete più impegnate nella settimana ed ha avvicinato i suoi migliori tempi mettendo una serie di ipoteca sulla convocazione per Tokyo. Ecco, a tal proposito Ilaria Cusinato di Cittadella ricordiamo che è primatista italiana nei 200 misti, Manuel Frigo anche lui di Cittadella primatista nella 4% stile libero, insomma com'è lavorare e veder crescere atleti così importanti? È un'emozione impagabile perché lo sforzo è notevole da parte delle società, da parte dei tecnici e delle famiglie e quindi sicuramente una menzione va fatta a tutti i protagonisti a 360 gradi della crescita di un atleta, perché in mezzo a tutti i ragazzini che si avvicinano a questo sport e che cominciano nell'età giovanili puoi vedere che nel corso degli anni, quella che poi è sempre stata la nostra filosofia, cioè crescere i campioni all'interno della loro piccola realtà, nel loro impianto vicino alla famiglia e quindi non sradicarli per portarli appunto nelle grandi città o nei grandi centri federali. Vedere che questi ragazzini poi crescono e arrivano a questi livelli sicuramente ti ripaga di tutti gli sforzi fatti nel corso degli anni. Insomma i risultati sono sotto gli occhi di tutti, 72 record italiani del team Veneto, 272 medaglie assolute, 6 atleti olimpici, insomma si semina tanto, si raccoglie anche tanto, però è chiaro che a proposito di semina, a proposito di fatica, a proposito di impegno e di lavoro apriamo una parentesi su le difficoltà che appunto il mondo delle piscine e del nuoto hanno affrontato in quest'anno e mezzo, grosso modo in cui ci si è dovuti chiaramente confrontare con una situazione pandemica che ha creato i problemi che tutti che sappiamo con una normativa che ha chiuso tante strutture, ha impedito il regolare svolgimento dell'attività sportiva, com'è stato allenarsi e quali difficoltà insomma avete dovuto sopportare in questo periodo? Bravissimo, è proprio una ferita ancora aperta perché le piscine al coperto attualmente per normativa sono chiuse e quando arriveremo al 30 di giugno che è l'ultimo giorno in cui dal primo luglio è prevista la riapertura anche delle piscine coperte, arriveremo a 296 giorni di chiusura, praticamente è quasi un anno di chiusura totale degli impianti. Il problema delle piscine rispetto a altri impianti sportivi sono i costi di gestione, la piscina è una struttura che non si può spegnere o accendere con un semplice interruttore e questo ha fatto sì che le società di gestione, soprattutto quelle più piccole, andassero molto in crisi e fossero costrette a indebitamento. La maggior parte delle strutture sono comunali, quindi le società gestiscono piscine pubbliche ma aiuti ne sono arrivati veramente pochi perché i costi di gestione di una piscina non sono paragonabili ad altre situazioni. Questo ha fatto sì che per poter consentire agli atleti di allenarsi molte strutture hanno seguito l'esempio del team Veneto e quindi radunando gli atleti su un'unica struttura e quindi permettendosi di poter spegnere una piscina e tenerne attiva solo una su due o una su tre in maniera tale che i costi di gestione fossero abbattuti. Però sicuramente la qualità del lavoro per quanto riguarda proprio l'aspetto logistico, l'aspetto tecnico e l'aspetto metodologico ha dovuto fare i conti proprio con questa chiusura e la rivoluzione degli orari o delle sessioni di allenamento e anche delle condizioni perché ovviamente magari si sono allenati in acqua fredda o con l'ambiente freddo ma gli atleti anche i più piccoli spinti dalla passione per questo sport hanno fatto fronte comune e i risultati qui in regione li siamo riusciti a portare a casa lo stesso. Un plauso va anche alla federazione nuoto regionale che ha consentito di poter fare alcune manifestazioni in totale sicurezza e alle società che hanno messo a disposizione gli impianti per l'allenamento. Presidente, tutte queste difficoltà e questa attività limitata quanto possono andare a incidere sulla crescita dei ragazzi che magari proprio in quest'ultimo anno e mezzo avrebbero dovuto fare normalmente il salto di qualità? Ha inciso moltissimo, io l'altro giorno con un collega facevo proprio un pensiero su questo aspetto, ci sono atleti giovani di 13-14 anni che avrebbero dovuto uscire dalla categoria degli esordienti per gettarsi nella categoria ragazzi che è la prima categoria che fa attività nazionale e internazionale e a loro sono mancati praticamente due anni di esperienza di attività nazionale e internazionale quindi hanno saltato i cosiddetti i campionati italiani primaverili, i campionati italiani estivi dell'estate scorsa alcuni dei nostri ragazzi che sono qui proprio da Tezze-sur-Brenta o da Rosà hanno saltato completamente l'anno in cui avrebbero potuto partecipare ai campionati europei juniores perché l'anno scorso, proprio l'estate scorsa, non si è svolta nessuna manifestazione né nazionale né internazionale. Quest'anno un po' alla volta si sta ripartendo, abbiamo visto appena adesso Budapest chiaro che è mancata proprio l'esperienza dell'attività, è vero anche che i ragazzi dell'agonistica hanno avuto il privilegio di poter continuare l'attività, abbiamo sentito anche Gregorio Paltrinieri che lo ha detto in intervista, in numerose trasmissioni, quello che è più grave è che a tanti altri bambini invece è stata negata la possibilità di andare in piscina per continuare a fare attività sportiva o per imparare a nuotare, non solo i bambini, ma è il caso più grave di bambini ma a tutti, bambini, adulti, anziani, donne, sappiamo che l'attività in acqua è una delle più sane che si possono fare e si può fare da tutta l'età, a partire dal preparto quindi quando siamo ancora nella pancia della mamma, da zero fino a cent'anni diciamo. Ovviamente, questo è in dubbio. Parlando proprio di giovani, parlando di bambini, chiamiamolo il settore giovanile del Team Veneto, conta oltre 300 bambini, quindi numeri sicuramente importanti distribuiti sui vari poli natatori. Qual è adesso la situazione? C'è un calo di iscrizioni? I ragazzi che iniziano poi comunque vanno avanti? Com'è la situazione in questo momento? Allora, va fatta una premessa. Il Team Veneto conta come tesserati di atleti di punta, diciamo di elite, circa un centinaio di atleti e poi ha la fortuna appunto, avendo messo insieme le piscine che fanno parte del progetto, di poter pescare da un bacino di 300 e passa esordienti e i quali poi derivano da un bacino molto più alto di ragazzini che frequentano le scuole nuoto del territorio. Ecco, quello che dicevo prima è legato proprio a questo, il fatto che le scuole nuoto sono ferme da oltre un anno e sicuramente il futuro del nuoto, il futuro delle piscine, del nuoto, del nuoto agonistico e del nuoto agonistico di alto livello subirà sicuramente l'onda lunga di questo stop. Di questo è preoccupata anche la Federazione Nuoto Nazionale perché i risultati di altissimo livello che abbiamo appena visto a Budapest in questi giorni potrebbe essere che fra qualche anno non ci sia il giusto ricambio di giovani con atleti evoluti che abbiamo sempre mantenuto nel corso degli ultimi decenni. Presidente, siamo quasi in chiusura, due domande al volo, la prima più che una domanda è una considerazione perché comunque il lavoro svolto dal Team Veneto ha portato il all'assegnazione nel 2016 della Stella d'Argento al merito sportivo, quindi questa è una certificazione importante di quello che state facendo e di come lo state facendo. Quali sono adesso i prossimi impegni, le prossime tappe da qui al futuro prossimo? Le prime e sicuramente le più immediate sono a giugno il Trofeo Sette Colli di Roma dove gli ultimi atleti, soprattutto Ilaria e Manuel Frigo, proveranno a qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo e contemporaneamente sempre a Roma tra la fine di giugno e i primi di luglio ci saranno i campionati europei Uniones dove abbiamo già due giovani convocati, Davide Dallacosta e Federico Rizzardi e poi in ultima i campionati italiani giovanili di agosto che quest'anno sembra che si possano poter organizzare sempre nella cornice dello stadio del nuoto di Roma e se le cose andranno bene chiuderemo la stagione con le Olimpiadi di Tokyo sperando di avere i nostri atleti convocati e protagonisti nella vasca giapponese. Noi certamente facciamo il tifo per l'oro, il tifo per gli azzurri. Io ringrazio Davide Pontarine per essere stato nostro ospite questa sera, grazie Presidente, l'appuntamento con tutti voi, ormai lo sapete, è una consuetudine circa alle ore 20 dal lunedì al sabato qui con Sport in Casa su Rete Veneta, grazie per seguirci sempre più numerosi e buona serata a tutti. Grazie a tutti.